E salve a tutti amici recuperiani e bentornati in questo nuovissimo video Oggi siamo, credo, non so la qualità com'è intanto perché è arrivata la webcam E visto che adesso non ci vedo bene, vedo anche sfocato lì quindi, però credo si veda bene spero Comunque allora faccio questo video, spero il più breve possibile per dirvi due cosette Allora, non potrò fare video per un po', ancora per un bel po' perché non ci vedo bene ancora Non posso stare troppo al computer, adesso che ho le due luci degli schermi per fare un po' di luce Ho gli occhiali da sole se non muoio, però in sostanza dovrei giocare con gli occhiali da sole Però non ci vedo niente con gli occhiali da sole Quindi per, diciamo, non fare niente fino a che non mi rimetto al 100% che ci vorrà qualche mese Andrò su Twitch, continuerò su Twitch perché YouTube non ce la faccio Cioè non mi posso sforzare troppo, al massimo sto 3 ore in tutta la giornata al computer E non posso usare queste 3 ore per giocare, montare un video eccetera perché ci vuole più di 3 ore Ogni clip, cioè voi vedete i video da 10 minuti ma sono clip, diverse clip da anche 6 ore E non posso più stare al computer per queste 8 ore Quindi voglio fare che dal 5 luglio Il momento in cui riavrò di nuovo tutte le 30 giga di internet Il martedì, giovedì, venerdì e domenica Sarò sul canale Twitch che trovate in descrizione dalle 18 alle 19 E praticamente giocherò quell'oretta Quindi per non morire andrò un po' su Twitch E poi ogni tanto spero di riuscire a far uscire qualche video piccolo Se magari riesco magari a registrare qualcosa come facevo prima per mezz'ora a caricarvelo Cose non troppo complicate Però non mi posso mettere troppo a giocare al computer perché poi iniziano a farmi male gli occhi Quindi per un po' non ci saranno video sul canale Per un bel po' E spero davvero che tutti quanti voi veniate su Twitch Perché ho fatto un post, l'ho messo su Discord e su Facebook Che trovate entrambi i link in descrizione Dove dicevo che ovviamente sarà Cioè è inutile fare live su Twitch se nessuno di voi viene Quindi spero che veniate in tanti E niente alcuni comunque anche su Telegram hanno dato conferma Che anche lì trovate in descrizione Che ci saranno spesso o se non sempre a tutte le live Spero che veniate in tanti anche voi Speriamo perché adesso nessuno sa che faccio live su Twitch Qualsiasi cosa del, cioè qualsiasi cosa mia la spammo pochissimo Quindi niente Io spero avvivamente che veniate in tanti E niente ci si vede il 5 luglio dalle 18 alle 19 sul canale Twitch Il link in descrizione Ci si può già abbonare Siamo già a 4 sub E ci sono già anche le modi Quindi niente Ci sarà pure live con la web meglio di così Quindi niente io spero che veniate veramente in tanti Trovate tutti i link in descrizione Soprattutto quello dei Twitch Andate a mettere un follow Martedì, giovedì, venerdì e domenica dalle 18 alle 19 Quindi io vi ringrazio per la visione Alla prossima spero il più presto possibile Ciao ciao